Dottoressa Matranga, un importante appuntamento per il diabete, per la prevenzione al diabete, lei l'ha sottolineato. La rete dell'Asel Roma 4 funziona ed è da prendere ad esempio anche per le altre patologie? Sì, è quello che noi stiamo facendo. Insomma, la rete diabetologica di questa azienda, grazie al lavoro del dottor Sant'Antonio svolto in questi anni, è una rete molto solida, che funziona bene e che mette insieme medici dipendenti e specialisti ambulatoriali. Però tra loro si è creato veramente un team, un'equip che funziona, ma è molto importante anche naturalmente il rapporto con i medici di medicina generale, perché poi sono loro che inviano i pazienti. Stiamo facendo anche un investimento importante sulle ore di specialistica ambulatoriale, come ricordava anche il dottor Sant'Antonio, e abbiamo in previsione un incremento abbastanza consistente, un po' su tutti i distretti. Importante è anche la sinergia che si sta attivando forte con la nostra oculistica, perché una delle complicanze del diabete è la retinopatia, e quindi vedo che stanno lavorando molto bene insieme i diabetologi e oculisti, quindi questa è un'altra cosa molto importante. La giornata di sabato si articola, noi iniziamo alle nove e mezza, allora ci sarà uno stand della Croce Rossa, in cui si valuteranno i parametri vitali, l'altezza, il peso, la glicemia capillare, e poi una volta che valutati questi parametri vitali ci stanno i nostri volontari che compileranno un test, in cui faranno alcune domande molto semplici. La somma di queste varie risposte crea un punteggio. Al punteggio corrisponde il rischio, e in relazione al rischio che il paziente ha, sarà inviato al diabetologo che ci assiste, e poi arriviamo alla camminata. La camminata si svolgerà contemporaneamente all'inizio, la donata è alle 9.30, partenza alle 10, si arriva dalla Coppe alla Conade, tanto per capire, al Parco Spigarelli, i camminatori cammineranno nella zona parcheggio, entreranno nel Parco Iuri Spigarelli e ritorno sullo stesso percorso. Questa iniziativa, che si svolgerà sabato 11, ha la finalità di svolgere un'azione di screening, quindi di verificare nei soggetti a rischio la probabilità di sviluppare il diabete nei 10 anni successivi. E poi si entra nella rete dell'Astra Roma 4, di cui parlava anche la dottoressa Matranga. Sì, nella rete entrano le persone a cui viene diagnosticato il diabete, perché il diabete è una malattia che purtroppo non guarisce, che se non trattata in maniera appropriata può portare a complicanze anche molto gravi, e quindi queste persone necessariamente devono essere presi in carico sia dal medico di medicina generale che dalle strutture specialistiche.